Casa, Bologna di merda, a casa, che ogni volta dovete fare i fighi contro di noi, ogni volta 1-0 a casa, anche soffrendo non me ne frega un cazzo, l'importante era vincere, 1-0 l'abbiamo portato a casa, gol di Bistecone Bistec e a casa Bologna di merda, che ancora non me lo scordo quella partita incredibile che ci avete fatto perdere lo scudetto. Né quest'anno, ok, il pareggio 2-2 e poi la Coppa Italia, che ogni volta vi dovete fare i fighi contro di noi, a casa, a casa, 1-0, Bistecone Bistec e a casa, 3 punti, più 18 e domani i Coppi con l'Atalanta, pam, 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 gli schiaffoni prenderanno, ve lo dico io, e saremo a più 18. Ora parliamo della partita, allora portiamo a casa 1-0, ma il secondo tempo soprattutto ragazzi hanno sofferenze immane, non riusciamo più a ripartire, anche nel primo in verità, qualche problema sull'uscita palla. Partiamo dai contro, ok, oggi ragazzi Ciala si vede che ancora non è in ritmo ed è la cosa più preoccupante in vista di Madrid, ok, perché con l'Atletico Madrid serve il miglior Ciala, serve il miglior Turam, serve il miglior Lautaro, serve il miglior Acerbi. E oggi i rientranti Maluccio, Turam è già alla seconda partita ma ancora non chiama la profondità tutte le volte che la dovrebbe chiamare, scatta poco, sulle seconde palle è un po' lento, deve rientrare, deve rientrare in ritmo ragazzi, ancora non ci siamo oggi, pericoli ne ha portati zero Turam. Cialanoglu, ombroso, nell'ombra, si è fatto servire poco, non ho visto lanci in profondità, non ho visto verticalizzazioni, non ho visto questi contrasti che lui fa davanti l'aria a recuperare la palla, non ho visto neanche un'uscita fatta alla Ciala sul pressing, perché loro ragazzi hanno pressato, soprattutto nel secondo tempo, ma anche nel primo, nel primo meno, però comunque pressavano e noi uscivamo male, uscivamo male, male, male ragazzi, male. Male anche a Cerbi, non che abbia fatto cazzate, però l'ho visto un po' in difficoltà sulla marcatura, anche nell'uscita palla, male a Cerbi, invece ragazzi, Sommer si è fatto trovare pronto sul tiro che ci hanno fatto, su una cazzate in uscita, perché lì sbagliamo in uscita, malissimo, anche Bisse che ragazzi in uscita deve migliorare parecchio, però poi, verso la fine del primo tempo, 35esimo, circa 40esimo, Bastoni che è stato il migliore in campo stasera a voto 8, perché in chiusura è stato bravissimo, non ha fatto passare nessuno, ha fermato diverse volte nell'uno contro uno l'avversario, anche quando spingevano sul fondo lui andava a chiudere bene, quindi grande basto, migliore in campo, e poi si è lanciato in avanti tantissime volte, e la volta decisiva, cross in mezzo a pescare l'inserimento di Bissek, che si è buttato bene a volo d'angelo, colpo di testa 1 a 0. Lì chi ci deve essere? Darmian, ragazzi, noi lo diciamo sempre, Darmian nel nostro cuore è un grandissimo, però è un grande braccetto ormai di difesa, per fare tutta la fascia, avanti e indietro, da quinto, ha difficoltà soprattutto in attacco, lì ci voleva Dunfris già nel primo tempo, ma io non so che cazzo stia succedendo con questo Dunfris, forse è la questione di rinnovo, non lo so, ma sembra un po' fatto fuori, poi è entrato nel secondo tempo, perché si è fatto male Carlos Augusto, allora cosa ha fatto? Ha spostato Darmian, quinto di sinistra, ha messo Dunfris all'inizio del secondo tempo, evidentemente voleva proprio risparmiare di Marco e Lautaro, per mercoledì contro l'Atletico. Detto questo, ragazzi, bastone migliore in campo, bene Bissek per il gol, anche in fase difensiva bene, però nell'uscita palla ha sbagliato anche lui qualche volta, Ciala, ho già detto in ombra, speriamo che rientri il ritmo per l'Atletico, Barella e Michi, ragazzi, ingiustificabili stasera, non mi sono piaciuti, hanno portato pochissimo pressing, hanno recuperato pochissimi palloni e anche pochi inserimenti, si stavano risparmiando per mercoledì, forse può essere normale, ragazzi, una partita così decisiva può essere anche normale risparmiarsi, però comunque oggi ci giocavamo tre punti, non possiamo mollare, quindi io queste prestazioni un po' le capisco, ma un po' no. Per quanto riguarda Carlos Augusto, ha spinto, ha difeso bene, poi ha sentito tirare e è dovuto uscire, comunque ha fatto un bellissimo assist di tacco proprio a Sanchez, che è il prossimo di cui parliamo, che ha fatto un bel tiro nel primo tempo sul palo del portiere che l'ha presa, l'ha pizzicata. Sanchez che è oggi un po' più in difficoltà rispetto alla partita scorsa, è stato anche lui poco incisivo, però insomma Sanchez ha sempre la giocata, ma oggi in grande difficoltà, esattamente come Duram, di cui ho già detto, ragazzi, Duram scatta poco, chiama poco la profondità, deve rientrare in ritmo, io mi auguro, me di oggi fregava poco, comunque sono tre punti, mi interessa molto di più la fase successiva della prestazione per la partita successiva con l'Atletico. Poi i cambi, allora Dunfris, ragazzi, ha continuato a essere timido, esattamente come Darmian, ha difeso bene, anche se poi a un certo punto, per questi ultimi 20 minuti, andava un po' in difficoltà, appena ha messo Ndoie dal suo lato, è stato bravo Frattesi, altro cambio, che gli ha dato una grossa mano, infatti bene anche Frattesi. Aslani ha fatto il suo quando è entrato, sto ragazzo ultimamente si è limitato un po' al compitino, io non ho visto le giocate che mi aspetto da lui, le aperture, i lanci in profondità, è vero che la profondità non la chiamava più nessuno, già Duram l'ha chiamata due o tre volte, quando è uscito Duram, Arnatovic, ciao cari, scatti zero, quindi è anche vero quello, però Aslani comunque poco, poco, cioè il compitino, ok, difendo la palla, scarico a tre metri, però, niente di grandi prestazioni. Klaas è l'entrato, si è fatto subito a munire, dopo tre secondi, dieci secondi, dopodiché anche lui l'abbiamo visto poco, si è messo a fare il suo, e Arnatovic, Arnatovic ragazzi, per me la prestazione è una fra le più negative oggi, perché comunque tu entri, sei alto due metri, stiamo in difficoltà, cosa fa la squadra? Lancia lungo, ma non tanto in profondità, lancia addosso a te per proteggere la palla e far seguire la squadra, quante volte c'è uscito? Zero, poi nessuno dice che non si stia impegnando, perché addirittura su un recupero finale lui torna indietro per recuperare una palla mentre loro ci assaltano e si stira, quindi ragazzi c'è anche da dire che si è impegnato però, 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 però non basta, però non basta, una valutazione sul nostro mister, lui ha deciso di risparmiare Di Marco e Lautaro assolutamente, io a questo punto mi proietto su Madrid e vi dico, è vero che loro attaccheranno forte, ma dobbiamo anche rispondere in contropiede, io Dunfriss ci penserei a schierarlo, già a titolare, perché non possiamo sempre andare a difendere e poi nel contropiede perdiamo un'arma come Dunfriss, perché Dunfriss comunque negli spazi si butta bene ed è pericoloso e invece lui sembra che l'abbia fatto un po' fuori, questo non mi è piaciuto. Per quanto riguarda il play, ragazzi, con Ciala, con Ciala in queste condizioni, si deve tenere pronto Aslani per Madrid, è vero che è una partita infuocata, un ottavo di Champions, il ragazzo ha appena fatto 22 anni, proprio oggi, credo, ieri, però Ciala ancora non è il ritmo, io mi auguro che mercoledì dimostri di essere tornato, torni in ritmo, torni in prestazione, ma è preoccupante, sono preoccupato per Ciala, per Turam, anche a Cerbi, forse l'ho visto un po' in difficoltà oggi, ma è normale, ragazzi, non è che me la sto prendendo con loro, rientrano dell'infortunio, però ci abbiamo De Frey, pensiamo anche a De Frey per Madrid, voglio dire, pensiamo, ragazzi, ora Arnaudovic si è pure fatto male, quindi avremo solo Sanchez come cambio davanti, dobbiamo gestirla bene, voglio sapere cosa ne pensate voi, quindi iscrivetevi al canale, cliccate prima su iscriviti subito dopo sulla campanella, selezionate tutte, in modo che vi arrivino le varie notifiche di quando faccio i video, di quando faccio le live, live che dovremmo fare domani per seguire la reaction di Milan e poi di Juventus, Milan-Empoli e Atalanta-Juve, le seguiremo in live, quindi mi raccomando, vi aspetto e diffondete la voce del Monarca, quindi mandate i miei video ai vostri amici, voglio sapere la vostra su questa partita, soprattutto il secondo tempo che abbiamo sofferto molto, come vedete le prestazioni di Duram, di Ciala, di Acerbi, eccetera, e fatemi anche una previsione nei commenti sulla partita di Madrid, quale potrebbe essere la vostra formazione, chi schierereste voi, insomma, ci tengo a sapere la vostra, detto questo comunque, cari gufi, gobbi, voi eravate lì, sia i gobbi, ma anche i bilanisti, sul Tresporo, no, Inter, perdi, col Bologna, Portasfiga, il tabù, il tabù, un cazzo, una zero a casa, altri tre punti, più 18 sui gobbi, e quindi soffrite, fegati spappolati, voglio vedere oggi a cosa si attaccano a livello arbitrale, non sono successi i casi, voglio vedere che cosa si andranno a inventare. Detto questo, il nostro solito salute latino, vide te mox, forza Inter.